Ma secondo voi, io, ho seguito la verità ovunque mi guidasse, ho sfidato il mondo intero per un ideale, ho difeso il debole contro il potente? Perché, se l'ho fatto, vorrei essere ricordato da voi come lo fui in terra, tra gli uomini, amato ed odiato come fui tra la gente. Perciò non costruite monumenti per me e non scolpitemi busti, che la realtà della mia anima non venga dispersa, anche se io non diverrò insieme Dio e di laio e di bugiari. Che mi furono nemici e mi distrussero, non possano, non possano rivendicarmi affermando davanti ad un busto che mi furono vicini nei giorni della sconfitta. No, non costruite monumenti per me e non scolpitemi busti. che la mia memoria non venga servita alla menzogna e all'oppressione. Non mi si rubi a chi mi amò, né ai loro figli. Io, io voglio rimanere in contaminato possesso di coloro per i quali ho vissuto. non costruite monumenti per me e non scolpitemi busti. Non costruite monumenti per me e non scolpitemi busti. Non costruite monumenti per me e non scolpitemi. Non costruite monumenti per me e non scolpitemi. Grazie a tutti